Chiara Ferragni, il presunto flirt con Silvio Campara. Come l'ha scoperto Fedez, ecco l'ultima indiscrezione. Chiara Ferragni questa estate è finita al centro di un gossip che la ritrae paparazzata accanto ad un noto manager. C'è del tenero tra Silvio Campara e l'imprenditrice digitale. La Ferragni dal Pandoro Gate, alla fine del matrimonio con Fedez, sembra aver ripreso serenamente la sua vita in mano, tra una vacanza e l'altra, per la prima volta l'imprenditrice è stata paparazzata in tenera compagnia. Nessuno dei due ha mai ancora smentito, e neanche confermato il presunto flirt che da giorni riempie le pagine delle testate giornalistiche e dei settimanali. Chiara e Fedez da mesi non vivono più nella stessa casa, e dunque la drastica rottura tra i due è stata forte e sentita da parte di entrambi. Ecco l'ultima indiscrezione. Come l'ha scoperto Fedez, il sito di Linger sostiene che, il rapper nonché ex marito della Ferragni, abbia scoperto del presunto flirt tra Chiara e Silvio proprio dai giornali. È stato il settimanale Chi, a lanciare il gossip dell'estate paparazzando la famosa imprenditrice di moda in compagnia del manager di un noto brand di scarpe, Silvio. Tra i due manager è scoppiato davvero il colpo di fulmine. Chiara dopo aver trascorso diverse settimane lontanissima dai social, è tornata a far parlare di sé, ma questa volta c'entra l'amore e non il lavoro. La Ferragni continua a tenere riservato tutto ciò che potrebbe riguardare la sua sfera sentimentale e privata. Come riportano le tante testate giornalistiche, Silvio è ancora sposato con figli, e per questo motivo probabilmente i due imprenditori non hanno ancora compiuto passi in avanti tali da poter confermare o smentire il gossip che nel giro delle ultime settimane è stato lanciato con foto in spiaggia. Grazie.